Ladies and gente, madame et dossier, lo chef della canzonetta, il maître della musica italiana, il direttore del Grand Hotel, Simone Cristicchi! Vorrei cantare come piace un tonacci, firmare autografia alle fan, riempire palasporto e fare quel che fa, piace un tonacci, ma meno male che c'è Carlo Abruni, siamo fatti così, Sarko no Sarkozy, solo fare colazione è un'esperienza, senza, 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 non ci sono più brioche nella credenza. Compro il giornale, il cui proprietario è il Presidente del Consiglio! Sono una meteora, di video io muoio, sono già finito nel dimenticatoio! Ti ricordi, ti regalerò una roba? Non so se sei presente, l'hai mai sentita? Una rosa, una rosa! L'hai mai sentita? L'ho scritta io veramente! Ecco, bene! Ti regalerò una rosa, una rosa rossa per dipingere ogni cosa, una rosa per ogni tua lacrima da consolare, e una rosa per poterti amare. La verità purtroppo è come il vetro, che è trasparente, si non è appannato, per nascondere quello che c'è dietro basta aprire la bocca e dagli fiato. Genova brucia! Genova brucia! Genova brucia! Vabbè, basta signori, basta così, grazie, basta! Osame è ancora latitante, l'ho visto ieri al ristorante. Il cuore batte più forte, nel petto saranno i bypass. Volemo le bambole, volemo le bambole, volemo le bambole, per fare l'amore. Io me la prendo con qualcuno, tu te la prendi con qualcuno, lui se la prende con qualcuno, noi ce la prendiamo! Vabbè, basta!